Il 1965 Giulia GTI fu disegnato da Bertone come un coupé e costruito da Autodelta su un piatto di giulia Giulia Berlina. Il GTI e il GTI M hanno scoperto 12 vittorie di Turing Championship tra il 1966 e il 1971. Per 55 anni l'Alfisti e tutti gli uomini del mondo hanno chiesto di riuscire a tornare. Ma devi sapere che non solo voi, ma anche ogni singola persona che funziona per l'Alfa Romeo ha dimenticato. Ci prende molta passione e tempo per creare una macchina così speciale e abbiamo dovuto farlo certo. Nel 2020 l'Alfa Romeo diventa 110 e abbiamo deciso che questo era il momento perfetto per pagare tributo alla marca che tutti amiamo e a tutti voi. E questo è il motivo che stiamo portando una, se non la più iconica, auto della storia della storia di Alfa Romeo oggi. Alfisti, ragazze e ragazze, il GTI è tornato. Grazie a tutti. 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 il centro, ancora più di quello che è stato fino ad oggi. Per essere coerenti con la nostra ricetta originale della GTR, dobbiamo dirvi che il potere solo non può essere l'unico ingrediente. Ciò che importa davvero per mesurare la performance di un'auto sportiva è la sua ratio di potenza e questo è dove la GTR e la GTR modificata eccellono. Ci sono solo due molto rapidi persone nella nostra squadra che non sono impressionati con questa ratio, i nostri guidatori del F1 team Alfa Romeo Racing Orleans e chi è meglio che Kimi e Antonio potrebbero descrivere il nuovo GTR per voi oggi. Per ottenere la prima impressione, guardo i suoi avanti. Il front end della GTR l'auto si sembrava e molto veloce, con i suoi carbon fibre fascia e aerodinamiche dispositivi che si sembrava che si sembrava con l'auto, e questo non è solo un impressione, è la realtà. Il front e i suoi trasporti sono stati spostati, facendo il ruo per il single nutto di potenza disponibile per prima volta sul sedone. Con i suoi potenziali 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 molto efficace con il ristratto di più calcio, pelle visite il pure il轉one. Scena posti di attività del F1 6a. Il front endotel, a scherzo l'auto e il fronte delttore del F1 6a. Scena posti buonaniche dizzo del F1 e il fronte del F2 6a. Il front dell F1 6a. Alfa del F1 6a, il fronte del F1 7a, a questo scena posti di romano. ично a l' Stadt R1 7a, a la stessa la stessa la stessa la stessa ericola. Guardando la macchina del carro, si è piaciuto dal nuovo diffusorio carbonio di carbonio integrato dal sistema di titanio di titanio. Ma diamo un'occhiata all'interno rivestiti in alcantara. Quando sei all'interno dell'abitacolo, ogni cosa è esattamente dove dovrebbe essere. Facile da raggiungere in ogni condizione di guida. Quando ti cali all'interno del sedile monoscocca in carbonio e ti allacci le cinture a 6 punti, capisci immediatamente quando tutto è sviluppato con la filosofia del made for driving. Sulla GTA modificata, l'attenzione maliacale è sulla leggerezza. Nuovi materiali e soluzioni tecnologiche sono stati introdotti per ottimizzare il peso e la sicurezza. Così come i vetri posteriori e laterali e degli unotto realizzati in Lexan, materiale super leggero e resistente agli urti, caratteristico delle auto da corsa, e il raw bar posteriore specifico. Tutti questi contenuti derivano dalla pista, aggiungendo quel sapore racing ma allo stesso tempo migliorando la leggerezza di oltre 100 kg rispetto alla quadrifoglio. Ma tutto questo cosa significa? leggerezza, sinonimo di agilità, 540 CV sempre pronti sotto il tuo piede destro. È la storica ricetta di ogni Alfa Romeo da corsa e non. Oggi su GTA si traduce in uno straordinario rapporto peso-potenza di 2,82, il migliore della sua categoria. Con la nuova GTA si tratta di livello e Icon, si tratta di nostre rotte di elegance e sportività e unicidità. Si tratta di Giulia GTA e GTA M in una serie limitata di 500 uniti, numerate e certificate. La GTA e la GTA M seguireanno il passaggio dei predecessori, diventando una delle caratteristiche più costruite e valutiche classiche di Alfa Romeo. Un pre-ordere si apriva oggi. Buendo un GTA sia un'esperienza di marca di Alfa Romeo in itself. Cada cliente sarà coinvolto in un processo di vendita esclusivo 1-1 e personalmente assistito da order-to-delivery. Cada GTA avrà un pack dedicato di esperienza dedicato, come una caratteristica di raccoglione di Alpinestad, un bel bianco aperto con una caratteristica specifica di GTA e una coperta di caratteristica per mantenere il tuo GTA sicuro e protettivo quando non è sulla ruota. Inoltre, i clienti di GTA attendono un corso dedicato a guidare alla Accademia di Guida Alfa Romeo. Giulia G.T.A. è la star di guest star di Alfa Romeo's 110th birthday party. Ma le nostre celebrazioni non finiranno qui. Ci sono molto più a venire, grazie alla tua passione che guida i nostri sogni. a via i Grazie a tutti